Buongiorno cari amici, oggi ci troviamo di nuovo a parlare di qualche problema che riguarda Bagheria. Sono con l'amico Ciro Sorci che ha una problematica per quanto riguarda il cimitero di Bagheria. Ora sicuramente sarà lui stesso a dirci e a parlarci di questo problema. Buongiorno signor sindaco di Bagheria, io sono nuovamente davanti a una telecamera per chiederle un posto dignitoso per mio figlio, perché dove io vado tutt'ora è una zona pericolante. Ora le mostro delle foto. Iscriviti al nostro canale Signor sindaco, le chiedo solamente un'ultima cosa. Dobbiamo aspettare che succeda la tragedia per sistemare la zona pericolante dove riposa mio figlio. O forse io e la mia famiglia siamo di serie B. Io le chiedo solamente un'ultima cosa, come mi ha detto lei, che si prendeva cura lei, ma vedo che ancora non c'è niente. Ora faccia lei. Bene, Cirio ti ringrazio per la tua testimonianza e speriamo nell'intervento del nostro signor sindaco. Grazie e una buona giornata a tutti.